Assicurazioni sulla DeFi. Alzi la mano chi non si è mai chiesto come funzionano, a che cosa servono e soprattutto se funzionano davvero. Bene, vi do una buona notizia perché nel video di oggi troverete tutte le risposte alle vostre domande. Questa puntata del corso di DeFi per principianti è proprio dedicata ai protocolli cosiddetti di insurance, il cui scopo è andare a proteggere eventuali posizioni o liquidità depositate e messe a rendita su varie piattaforme di DeFi. In questo modo ci si copre da rischi legati all'hack dello smart contract, rischi economici, rischi di depeg, ovvero di perdita della corrispondenza col dollaro di alcune stable coin e di tutta appunto una serie di rischi che sono quelli tipici della DeFi. Il tutto ovviamente ha un costo e purtroppo non è sempre semplice capire come funziona e come utilizzarlo. Oggi prendiamo in esame le principali piattaforme di insurance esistenti, che sono ancora poche perché è un settore che deve ancora crescere e maturare, ve l'ho detto, è molto complesso, solo dopo aver introdotto il nostro solito pippone teorico. Abbiamo le slide che spiegano il funzionamento di una piattaforma di insurance sia lato Digen Farmer che si vuole assicurare, sia lato Underwriter, ovvero colui che vuole fare da assicuratore, perché c'è anche questa possibilità. Il bello della DeFi è che si può sempre agire ambo i lati, essere sia fruitore del servizio, sia erogatore del servizio. E in entrambi i casi chiaramente ci sono delle interessanti conseguenze, anche positive da un punto di vista economico. Alla fine ve l'ho detto, facciamo anche un tutorial pratico delle principali piattaforme di insurance per capire passo dopo passo come si usano e se possono fare per noi. Quindi seguitemi, come al solito avrete le slide scaricabili gratuitamente con il link in descrizione. Basta, non perdiamo altro tempo e buttiamoci in questo mondo in crescita e complicato dell'insurance sulla DeFi. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi andiamo a trattare uno di quei settori della DeFi di cui si parla meno, probabilmente a causa, ripeto, di un'elevata complessità di comprensione e utilizzo di queste piattaforme. Ma io sono certo che questa categoria di piattaforme DeFi avrà un ruolo sempre crescente in futuro, soprattutto considerando l'arrivo e l'interesse sempre maggiore di capitali istituzionali. Perché sto dicendo questo? Sto parlando delle piattaforme di insurance, ovvero di assicurazione che in qualche modo proteggono dai rischi tipici della DeFi. E qualora io fossi una balena, un istituzionale che vuole investire milioni di dollari su queste piattaforme, diciamo che non sarei molto avvezzo a correre rischi, né per me, né soprattutto per i miei azionisti e gli investitori che si fidano di me. Pertanto, ripeto, questo settore va capito, va studiato, è ancora immaturo ma non per questo non utilizzabile da retail quali siamo e essere i primi a capirlo sicuramente è un bel vantaggio ed è anche interessante da un punto di vista proprio di studio della DeFi. È un po' la ciliegina sulla torta perché con questo abbiamo terminato poi le categorie di protocolli e passiamo alla fase successiva del nostro corso di DeFi per principianti che è l'ultima fase ed è dedicata alle strategie. Quindi, come implementare una strategia di rendita ottimizzata a diversi livelli di rischio sulle piattaforme DeFi. Punto a fare all'incirca una decina di puntate totali, questa è la settima, quindi ormai siamo al capolinea. Come sempre, se avete suggerimenti, feedback o qualsiasi cosa lasciatemeli per cortesia nei commenti, in questo modo riesco a offrirvi contenuti sempre migliori. Iniziamo con la nostra tipica panoramica sul video di oggi. Che cosa andiamo a vedere? Allora, andiamo a vedere che cos'è, a che cosa serve e come funziona un protocollo di insurance. Ho mischiato singolare e plurale perché ho riciclato le slide dell'ultima puntata e non ho cambiato tutte le parole. Sì, sono pigro, mi vergogno, ma fa niente. Quali sono i rischi nell'utilizzo di queste piattaforme? Poi, qui c'è il nostro Peppe DeFrog che sta sovrastando completamente la scritta. Spostiamolo un po' più in alto. Andiamo a vedere come si fa ad acquistare protezioni, le cosiddette covers, e come riscattarle nel caso in cui si subisca una perdita. Ovviamente ci sono questi due step da fare. Innanzitutto comprare la copertura se mi voglio assicurare, e in secondo luogo capire come si fa a esercitare il mio diritto a essere rimborsato qualora subisca un hack o un incidente coperto dalla cover che ho appunto acquistato. E andiamo a vedere entrambe le cose. Andiamo anche a vedere come si fa a porsi dall'altra parte. Qui stiamo parlando di assicurato, ma parliamo anche da assicuratore, che in gergo si dice underwriter, che è colui che crea questa sorta di polizza. Polizza è un termine sbagliato perché non c'è un contratto come appunto in una polizza assicurativa. Tra poco vi spiego il funzionamento su cui si basano le garanzie e i diritti che l'assicurato ha quando utilizza uno strumento di questo tipo. Poi andiamo a vedere diversi metodi sia di protezione che di claim. Il claim vi anticipo già che è quella procedura che si va ad attivare qualora si subisca l'incidente e si vuole avere la rivalsa quindi sul capitale, quindi andare a richiedere un rimborso. Si chiama proprio la pratica di claim su queste piattaforme. Andiamo a vedere i diversi metodi perché ci sono alcune categorie fondamentali, come vedremo tra poco, che si basano su certe logiche. In alcune c'è una serie di persone che votano in sostanza se tu hai diritto oppure no e altre sono algoritmiche, quindi non ci sono decisioni da prendere ma è semplicemente sì o no in base a certi dati. Non vi voglio anticipare troppo, se no facciamo confusione, iniziamo a capire il funzionamento di base di un protocollo di insurance. Supponiamo che io sono un Digen Farmer, neanche troppo Digen perché in questo esempio sto utilizzando Curve che è uno dei protocolli più sicuri in assoluto, io vado a dare liquidità su un pool di Curve, supponiamo. Quindi io sono esposto ai rischi di Curve, no? Ormai li abbiamo capiti i rischi che ci sono nella DeFi, il rischio di smart contract, il rischio di essere ragpullato, vabbè su Curve direi che non c'è, i rischi di eventuali amministratori della piattaforma se ci sono, quindi se c'è una componente di centralizzazione, eccetera, eccetera. Ma principalmente il rischio maggiore è proprio il rischio di trovare un bug all'interno degli smart contract che permettono ad eventuali hacker, ad eventuali attaccanti con scopo malevolo, che hanno scopo di sottrarre fondi al pool per un loro guadagno personale, un loro tornaconto personale, quindi loro possono utilizzare o appunto dei metodi semplicemente di hack, quindi andare a manomettere lo smart contract, oppure ci sono i flash loan attack, dove vanno a influenzare i prezzi di alcune coin in maniera puntuale per breve tempo, per andare a sfruttare poi degli arbitraggi molto complicati. Adesso non è importante che voi capiate questi metodi che vengono utilizzati dagli hacker per avere un loro tornaconto, a noi interessa sapere che comunque siamo coperti da queste eventualità. Come facciamo a coprirci? Acquistando una cover, quindi un insurance, sul pool in questione, ok? Quindi non è che c'è un insurance generica, io devo andare ad acquistare quella su curve e vi dirò di più sul pool specifico di curve che sto utilizzando con la mia liquidità. Solitamente in protocolli grandi come ad esempio curve ci sono insurance che includono tutti i pool, quindi non è che c'è da acquistarne una per ogni singolo pool, anche perché ci sarebbe veramente da impazzire e non avrebbe neanche senso per un protocollo come curve, magari avrebbe più senso per un protocollo a rischio più alto, ma anche lì vedrete che, come vi farò qualche esempio pratico tra poco, tendenzialmente non viene fatto perché altrimenti poi non la sottoscrive nessuno, sta iniziando a diventare un settore abbastanza competitivo anche questo e quindi le piattaforme puntano a dare un'esperienza la migliore possibile all'utente finale abbassando i premi che deve pagare. Quello che devo fare io per acquistare la mia copertura su curve, sul pool di curve, è pagare un premio, esattamente come quando vado ad acquistare l'RC auto, assicurazioni sulla casa, o altre tipologie di assicurazione. In sostanza io quello che faccio è pagare un premio per andare ad abbassare il mio livello di rischio, quindi devo cercare di capire innanzitutto se ne vale la pena. Il ragionamento è, vale di più la pena pagare quello specifico premio per evitare quello specifico rischio, o il rischio è talmente basso e il premio è talmente alto che mi stanno tirando una sola, in altre parole. Questa è sempre la domanda da farsi, quindi avere un'idea, farsi una stima della probabilità che si ha di incorrere in uno specifico incidente, e dall'altra parte il costo della copertura assicurativa. Vi faccio un esempio, visto che parlavamo di Curve, se un'assicurazione su un pool di Curve mi costasse il 15% l'anno, col cavolo che la vado a sottoscrivere, non avrebbe nessun tipo di senso, perché innanzitutto mi mangierebbe praticamente tutto l'APY che io guadagno da Curve, e va a finire che a sto punto mi conviene andare all-in su conto arancio o su che banca. E dall'altra parte Curve è talmente sicura che il rischio comunque è molto basso, quindi sarò disposto a pagare un premio estremamente ridotto. Ma il mercato comunque dell'insurance fa sì che il premio si vada comunque a bilanciare, si vada ad equilibrare, proprio in base al rischio percepito su una piattaforma. Perché se l'assicuratore dà a disposizione capitale su una piattaforma che percepisce a basso rischio, e nessuno comunque compra dall'altra parte l'assicurazione, nella cover, il prezzo tenderà ad abbassarsi, proprio perché altrimenti è capitale che sta lì a non fare assolutamente nulla. È libero mercato anche questo. Si deve scegliere anche la durata della copertura e il massimale coperto. Quindi se io ho depositato un milione di dollari, dovrò assicurare un milione di dollari, altrimenti posso anche assicurarne mezzo, ma se poi perdo un milione di dollari, mi rimborsano soltanto il massimale mezzo milione. La durata, quindi, per quanto tempo dura questa cover? Per un anno, per tre mesi, un mese, dieci giorni? Lo decido io. Chiaramente poi io vado a pagare un premio che è proporzionale a questi due parametri. Massima attenzione ai vincoli. Ponetevi sempre la domanda da cosa mi sto coprendo? Perché ci sono sempre dei fogli, dei PDF di solito contenenti i termini e condizioni specifici della specifica cover, per l'appunto, che mi dice ti stai coprendo da rischio di hack, rischio di bug, attacco alla governance, manipolazione del prezzo dell'oracolo. Insomma, bisogna conoscere un po' quello di cui si sta parlando. E se avete seguito i corsi di DeFi fino a questa puntata, li dovreste, spero, conoscere. E quindi, mi raccomando, leggete sempre bene i vari vincoli, perché vi faccio un esempio. Se voi utilizzate Convex o Yearn che ha come sottostante gli LP di Curve, ma poi viene accherato Curve, per esempio, e quindi l'LP di Curve perde valore, non è che voi siete coperti se avete l'assicurazione su Yearn, perché l'attacco è avvenuto su Curve. Quindi massima attenzione anche a queste cose, ok? Ci sono questi vincoli che bisogna capirli. Altra cosa, la perdita del PEG delle stable coin, deve essere espressamente coperto, perché se io mi copro, ad esempio, su Anchor soltanto dal rischio di smart contract e poi UST mi va a 0,5, io non sono coperto. Io ho l'assicurazione soltanto su eventuali hack, eventuali attacchi allo smart contract di Anchor. Ci sono ovviamente anche dei bundle delle assicurazioni che includono sia l'uno che l'altro, ma mi raccomando siate consapevoli di ciò da cui vi state coprendo, dei rischi da cui vi state coprendo. Supponiamo che Curve viene hackerata e io ho la mia assicurazione che ho acquistato la mia cover e avrei, se non avessi la cover, avrei subito una perdita, perché il mio capitale era su Curve proprio sul pool che è stato hackerato, supponiamo. Quindi cosa succede? Succede che parte il processo di claim. Il claim è il processo con il quale si dimostra la perdita, importantissimo, e si richiede il rimborso. Al fine di essere elegibili per il claim, occorre rientrare nei termini e condizioni di cui abbiamo parlato fino a poco fa. Quindi, attenzione di sapere bene da cosa vi state coprendo. Occorre poi la cosiddetta proof of loss, ovvero dimostrare di aver subito la perdita. Questo può voler dire, perché spesso le insurance si fanno, non lo so, su Ethereum, alcune sono anche su altre chain adesso, ma supponiamo di avere subito una perdita su un'altra chain, cioè io ho acquistato la copertura assicurativa, la cover su Polygon, ma poi mi sono assicurato su una piattaforma su Ethereum. Si può fare, assolutamente, per risparmiare le fee. Vedremo tra poco come, con alcune piattaforme. Tuttavia, devo dimostrare in fase di claim che innanzitutto quell'address sul quale c'è stata la perdita è mio. Quindi dovrò fare una firma, in sostanza, attraverso, non lo so, un procedimento con cui viene integrato direttamente il wallet nella DAP di insurance. Mi richiederanno di dimostrare appunto che quel wallet che ha subito la perdita, quindi quello su Ethereum, nel nostro caso, è effettivamente nostro. Creare una sorta di legame, tra il wallet che ha pagato il premio dell'assicurazione e il wallet che ha subito la perdita, la cosiddetta appunto proof of loss. Dopodiché viene sottoposto, bisogna anche dimostrare, con le transazioni alla mano e tutto quanto, ciò che è stato fatto e la perdita che si è subita, quindi quantificarla, ma quello è abbastanza facile, perché comunque è tutto on-chain, quindi non c'è molta ambiguità su questo, quindi il claim di solito va abbastanza liscio, cioè o un claim è palesemente favorevole, nel senso uno ha diritto di richiedere quello che è il suo rimborso, oppure è palesemente non di diritto, perché insomma ha fatto un insurance per una cosa e sta chiedendo tutt'altro. Ci sono alcune zone grigie, perché ad esempio il discorso di, non lo so, Iron Finance mi viene in mente, che vi ricordate che c'era stata la perdita del PEG, quella bank run, quell'attacco al protocollo, per cui si è innescato un ciclo che ha portato a un continuo dump del prezzo del collaterale, di conseguenza anche la stable coin, che era collateralizzata in parte proprio da quello, ha perso quella parte di valore. Tuttavia non era uno smart contract bug in quel caso lì, perché nessuno l'ha hackerato, era esattamente il suo funzionamento, cioè non c'era stato niente di strano nel funzionamento dello smart contract, e pertanto non era un evento copribile. Evento copribile era se qualche hacker in qualche modo andava a manipolare oracoli o a svuotare i pool tramite appunto un attacco diretto. Quindi questi ci sono sì alcuni casi di ambiguità, possiamo dire, ma tendenzialmente sono molto pochi, soprattutto se si parla di piattaforme DeFi di un certo spessore, ok? Anche perché andare a... le assicurazioni per le piattaforme DeFi esotiche o costano un capitale spropositato e quindi diventano poco interessanti, oppure manco ci sono. Infine, vi dicevo, il claim procede con un processo di esame e votazione, ci sono o i token holder o una governance selezionata che comunque valuta il caso e vota se hai diritto o non hai diritto al claim, al rimborso in questione. È di loro interesse dare una risposta giusta, una risposta equa, corretta per l'utente finale, non proteggere il pool del capitale perché altrimenti i token holder si incazzano, vendono, nessuno utilizza più questa piattaforma perché si dice è uno scam e quindi va a dampare il prezzo del loro token e il protocollo muore. Quindi è nel loro interesse fare le cose in maniera giusta. Se tutto va bene, poi viene rimborsata la perdita entro il massimale. Sul riguardo al claim c'è anche poi una finestra di appello qualora il risponso che viene dato dalla votazione non ci piacesse possiamo fare un appello entro 24 ore dove viene ulteriormente preso in esame da un team dedicato dove solitamente c'è dentro anche una parte legale e insomma si rivaluta l'eventuale errore che può essere stato fatto in governance. Andiamo avanti e vediamo quali tipologie di rischi solitamente vengono coperti. Intanto vedete che qui c'era il nostro Pepe di Gemfarmer che si cagava un po' in mano ma poi gli è stato pagato la cover e quindi è bello che contento. Che noi stiamo evidenziando le possibili criticità. No, vi ho detto attenzione a questa cosa attenzione all'altra ma perché non bisogna pensare che uno dice boh io prendo la cover vado a fare i pin non me ne frega niente di niente no, devo sapere quello che sto facendo. Al momento, ripeto è un mercato ancora abbastanza immaturo e di coperture complete a 360 gradi ce ne sono poche. Rischi coperti rischio smart contract quindi hack governance attack il che vuol dire che in qualche modo viene manipolata una votazione per implementare dei cambiamenti oppure c'è il team che scamma che fa rag pull questi sono tutti i tipi di governance attack economic attack che vuol dire andare a manipolare in qualche modo in maniera espressamente malevola quindi non come iron finance ma in maniera proprio malevola da parte di qualcuno il prezzo di qualche asset oracle attack flash loan attack tutti queste sottocategorie sempre di economic attack il DPEG della stable coin che vuol dire la perdita del legame con un altro asset come il dollaro ad esempio se DAI va a valere non lo so 0,9 se UST va a valere 0,9 quello è un caso di DPEG e a volte ci sono anche lì dei vincoli quindi DPEG almeno per 5 ore 6 ore 10 ore altrimenti il claim non è valido oppure ci sono i cosiddetti bundle che vengono a volte chiamati anche umbrella proprio perché è una copertura completa di più protocolli oppure ad esempio anchor più mirror per chi vuole utilizzare le strategie delta neutral su terra oppure smart contract più DPEG anche lì c'è il bundle su anchor tra la copertura del rischio smart contract più la copertura DPEG di UST così in quel caso non ho veramente nulla a cui pensare ok questi sono un po' le casissime statistiche principali di copertura di rischi la seconda categoria di piattaforme di insurance sono quelle di tipo algoritmico quelle che abbiamo visto finora hanno il processo di claim quindi ha una componente umana quelle algoritmiche non hanno una componente umana quindi non c'è il processo di claim come funzionano? beh l'esempio classico qua è Ozone Riscarbor sulla stessa su anchor stanno implementando questa cosa come fanno? allora loro verificano al momento dell'incidente cioè loro continuano a verificare in realtà tramite un oracolo il valore di AUST che è quell'asset che si riceve quando si mette in earn su anchor i nostri UST come sapete AUST vale 1,14 15 adesso vale un po' di più di UST perché acquisisce valore nel tempo con un tasso di crescita del 19,5% annuo dell'APY di anchor protocol se accade si verifica la condizione per cui AUST dovesse valere meno di un UST ad esempio per un tempo di 10 ore dico una cosa a caso non so poi esattamente come funziona allora per me quella è la condizione di default se si verifica la condizione di default la piattaforma paga tutto lì basta è più difficile da implementare perché comunque anche lì ci vuole dimostrare la proof of loss quindi bisogna dimostrare che chi acquista la copertura è lo stesso proprietario dell'wallet in questione quindi diciamo ci sono alcuni vincoli non è che posso usare un wallet per depositare su Anchor un altro wallet per comprare la copertura ci sono certi vincoli da seguire al fine di poter dimostrare poi in futuro che la perdita l'ho subita io quindi è più difficile da implementare anche per i protocolli perché serve una condizione di default come ad esempio è facile per AUST però può essere più complicata per altre tipologie di piattaforme soprattutto quelle combinate qual è il trigger che permette di dire quello è default e soprattutto che sia una condizione non manipolabile perché altrimenti c'è il rischio che qualcuno vada a manipolare il qualche asset al fine di far verificare la condizione di default farsi pagare la copertura assicurativa e poi in realtà il danno non c'è è soltanto simulato e per questo motivo al momento è circoscritta a pochissime piattaforme Ozone è solo su Anchor e ce ne sono poche altre su Ethereum sto parlando solo di Riscarbor che è l'unica tra poco la vediamo ma ripeto ci sono queste limitazioni e questi rischi maggiori lato protocollo l'altra parte del puzzle è l'underwriter ovvero colui che va a fare da assicuratore io fornisco liquidità al protocollo in cambio di APY chiaramente e il mio capitale va a coprire gli assicurati quindi abbiamo un trasferimento del rischio attenzione io mi sto in cambio di un APY io mi sto prendendo il rischio dell'assicurato massima attenzione quindi io devo sapere che cosa sto assicurando cioè non sto assicurando una piattaforma esotica non sto assicurando un Iron Finance di turno devo sapere che sto assicurando un Curve uno Yearn insomma delle piattaforme che sono comunque non ad elevato rischio o perlomeno se sto assicurando una piattaforma di elevato rischio che almeno l'APY sia come dire equilibrato sia giusto per il rischio che sto subendo anche qua c'è un discorso di questo tipo come vedremo ci sono alcune piattaforme che danno degli APY interessanti ad esempio su Ether su Ethereum c'è anche un 20% quasi che si può ottenere di APY però chiaramente mi sto andando ad addossare il rischio di chi assicura non è più sotto rischio lui ma lo sono io come funziona esattamente qual è il livello di rischio allora io incasso i premi che vengono pagati dall'altra parte c'è il premio pagato di chi si assicura e in più c'è il farming quasi tutte ormai penso tutte addirittura forse tranne RISCARBOR tutte le piattaforme di insurance hanno il loro token e ti fanno farmare ci sono dei liquidity mining anche lì per incentivare innanzitutto dare capitale al pool che viene usato per assicurare e in seconda battuta per fare assicurare gli utenti ok serve comunque un'utenza per generare un po' di utile per far partire la piattaforma i casi poi possono essere due perché anche se accade un claim cioè se accade un incidente non è detto che io subisco una perdita e comunque questa perdita può essere contenuta quindi anche lì c'è un discorso di rischio rendimento non banale sul quale bisogna ragionare caso per caso se l'incidente ad esempio è contenuto supponiamo tanto che il claim totale che viene fatto dagli utenti che sono stati danneggiati da questo incidente è minore del totale dei premi che hanno pagato io sì andrò a incassare un APY minore ma non avrò una perdita perché la prima parte che viene rosa che viene utilizzata per rimborsare sono proprio i premi tutto l'insieme di premi pagato dai vari utenti che utilizzano quel pool specifico di capitale ok e se al contrario il claim la quantità claimata la perdita complessiva degli utenti coperti è maggiore addirittura dei premi che hanno pagato in quel caso si attinge dal pool che gli underwriter hanno messo ma quello è il rischio fa parte del gioco quindi se vi faccio un esempio banale se io ad esempio sto andando a dare capitale a un pool d'underwriter su delle insurance erogate su curve e l'APY è del 20% è un po' come dire io sono esposto ai rischi di curve e guadagno il 20% cioè ci può stare come cosa è assolutamente rischio rendimento favorevole perché farmando su curve quanto si ottiene qual è la domanda che c'è da farsi e soprattutto magari posso ottenere la rendita in ether mentre su curve la ottengo in stable coin o in altre coin quindi c'è da fare dei ragionamenti di questo tipo puntuali caso per caso per andare a quantificare il profilo rischio rendimento questo però a grandi linee è il funzionamento manca un ultimo tassello non so se vi siete mai fatti questa domanda ovvero chi assicura l'assicurazione questa è una domanda non banale perché di fatto noi ci stiamo anche esponendo al rischio di hack del protocollo di insurance quindi noi sì siamo underwriter siamo assicurati bene ma se qualcuno buca il pool di capitale che ci sta coprendo non benissimo perché alla fine non ci rimane niente diventa insolvente la piattaforma di insurance e quindi siamo punto a capo quindi in sostanza io quando vado a utilizzare una piattaforma di questo tipo mi espongo a questi rischi uno il rischio di hack del protocollo di insurance sia che io sia assicurato sia che io sia assicuratore perché in entrambi i casi realizzo una perdita quindi attenzione a sceglierla bene e non è banale ce ne sono poche vabbè quelle poche sono tendenzialmente affidabili però non si sa mai con la DeFi sapete bene rischio underwriter ovvero io mi sto trasferendo addosso il rischio dell'assicurato se sono un assicurato c'è il rischio che magari non ho capito bene e non mi sto coprendo al 100% da tutto quello che voglio e questo l'ho tradotto con elevata difficoltà d'uso perché non è banale non è semplice e inoltre la limitatezza di chain e protocolli perché insomma spesso le insurance sui protocolli più utilizzati più richiesti vengono sbranate a una velocità pazzesca quindi non lo so ad esempio Anchor Curve quelle lì di solito sono sempre o quasi sold out e purtroppo che questo è un limite la liquidità non è ancora molto grande le top piattaforme insurance viaggiano mi pare sul mezzo miliardo di liquidità adesso andiamo a vedere con e a toccare con mano le principali piattaforme di questa categoria così concretizziamo la teoria che abbiamo imparato finora seguitemi la prima piattaforma di insurance nonché quella con i maggiori volumi e liquidità attuali è Nexus Mutual Nexus Mutual ha alcune limitazioni purtroppo ma al momento è quella che ha maggiori disposizioni di liquidità ve l'ho detto la prima limitazione è che purtroppo è soltanto su Ethereum si può acquistare coperture o dare capitale esclusivamente su Ethereum come vedete abbiamo una vasta scelta di protocolli ognuno dei quali in fondo ha la capacity che è la quantità di massimale che si può ancora coprire sia in Ether che in DAI si può scegliere di essere coperti appunto basandosi su un controvalore di Ether oppure di stablecoin così che si possa appunto scegliere ciò che ci va più a genio come vedete le piattaforme i protocolli non sono per forza su Ether perché abbiamo anche Trader Joe abbiamo protocolli su Arbitrum su Avalanche su Phantom BSC insomma è multiple è cross chain come protezione ma il marketplace l'acquisto e la vendita si cioè avviene esclusivamente su Ether e le fee credetemi sono veramente alte perché interagire con uno smart contract del genere si aggira quasi sui 1000 dollari tra tutte le operazioni che c'è da fare comunque abbiamo a disposizione qui non solo le piattaforme DeFi ma anche addirittura le piattaforme Cefai infatti abbiamo ad esempio Celsius abbiamo Ledn abbiamo Nexo BlockFi eccetera 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 e poi come vi dicevo gli altri parametri sono le chain sulle quali il protocollo si trova e il costo annuo del premio il costo del premio dipende da vari fattori dipende soprattutto dai volumi di scambio e dalla liquidità disponibile che quella specifica copertura ha ad esempio se abbiamo una capacity ancora pressoché vuota cioè ancora tanto a disposizione allora il premio tenderà ad abbassarsi perché il mercato è come se dicesse c'è molta offerta e poca domanda al contrario qualora ci fosse quasi saturazione e ci fosse poco capitale a disposizione e quel poco capitale a disposizione anche specificato che vuole farsi pagare un premio alto allora in questo caso il costo incrementa ci sono anche una serie di votazioni c'è una governance che va a decidere poi i premi sulle varie coperture in base anche al rischio percepito sulla specifica piattaforma ad esempio trader joe un costo del 55% annuo mi sembra esageratamente spropositato ha molto più senso invece vedete convex al 2,60 allora lì sì che c'è senso di andare ad acquistare una copertura e il discorso rischio rendimento che dobbiamo fare da farmer che si vogliono coprire è proprio questo cioè io vado a dare liquidità su trader joe ha senso che acquisto una copertura che mi costa un premio del 55% annuo non ci vedo nessun tipo di senso per fare ciò perché comunque non è che trader joe è un protocollo particolarmente esotico è uno dei principali decks su avalanche e non vale il 55% di premio annuo il coprirsi da un rischio legato allo smart contract questi sono i parametri poi per acquistare una copertura bisogna su nexus mutual fare anche un kyc c'è anche quest'ulteriore limitazione ovvero noi dobbiamo diventare member di nexus mutual e per farlo appunto c'è una procedura di kyc perché c'è dietro comunque un'entità giuridica di fatto che gestisce il tutto e per motivi di compliance ti fanno fare il kyc una volta fatto e tutto quanto noi facciamo get quote vedete che possiamo scegliere in ether o die come vi dicevo quanto quant'è il nostro massimale supponiamo 100.000 die e il periodo di tempo un mese 90 giorni un anno lo possiamo anche scrivere a mano qui ci viene mostrato poi quale sarà il premio che noi dobbiamo andare a pagare e se lo vogliamo fare vedete c'è become a member questo è il funzionamento si può ridurre il costo della copertura se si utilizza nxm per pagarla ok quindi fate attenzione anche questa cosa non vale per tutte le coperture ma per alcune si può ridurre in parte il costo ok poi qua ci sono i termini e condizioni quindi da che cosa ci stiamo coprendo contrat bug in questo caso attacchi economici inclusi quelli degli oracoli e governance attacks sono quelle categorie di attacchi di cui abbiamo parlato prima chain supportate sono queste per il claim serve la proof of loss 72 ore dopo l'evento e si può fare il claim fino a 35 giorni dopo alla scadenza della cover a patto che però chiaramente l'incidente non è che è avvenuto dopo è avvenuto durante la copertura c'è un ritardo disponibile massimo di 35 giorni poi ci sono i pdf con tutti i dettagli vengono specificate insomma tutte le le eventualità che non vengono coperte come ad esempio il phishing se vi vengono sottratte le chiavi private perché avete fatto errori voi malware attacchi hack all'exchange eccetera 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 chiaramente attacchi hack all'exchange se non mi sto coprendo sulla cefi ok questo riguarda la copertura di un protocollo la copertura di uno smart contract ci sono anche delle specifiche temporali quindi deve l'incidente deve avvenire nello specifico periodo e basta e così via e poi qua viene spiegato un po' step by step come andare a provare la proof of loss quindi come andare a dimostrare che il wallet che ha subito la perdita di fatto è tuo eccetera 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 le cose che abbiamo già visto dall'altra parte si può fare da underwriter quindi andare a mettere in stake in sostanza sui progetti che secondo noi sono sicuri tac quindi andare a dare capitale l'unica controindicazione purtroppo è che è obbligatorio farlo in NXM e gli APY tendenzialmente sono abbastanza scarsini inoltre bisogna essere anche member per farlo quindi non lo so non ci vedo un grosso guadagno non so se mi sto perdendo qualcosa magari ma mi sembra che per un APY del genere esporsi al rischio di NXM e tutto il procedimento che c'è da fare non mi dice molto poi andiamo avanti con altre piattaforme perché questa è stata la prima è tuttora la prima in liquidità ma ce ne sono altre forse un pelo più innovative come Insurace Insurace ha due differenze principali rispetto a Nexus ovvero la prima è che è cross chain quindi non solo su Ethereum ma anche BSC Polygon e Avalanche e la seconda cosa è che non c'è da fare il KYC il resto è identico quindi si può fare da assicurati e da assicuratori vedete qua c'è una dashboard che fa vedere quanto ammonta la copertura complessiva erogata e il TVL sulle varie chain giusto per capire l'andamento di questa piattaforma poi vedete che se andiamo su Insurance Buy Covers ci fa vedere il Marketplace Marketplace che si può andare a filtrare per tipologie di assicurazione tra cui c'è anche la Custodian Risk quindi la la Cefai vedete che abbiamo tutte le diverse chain e la chain selezionata qua in alto è la chain sulla quale facciamo l'acquisto quindi se vogliamo andare a spendere un po' meno possiamo scegliere ad esempio BSC possiamo andare a collegare il nostro Metamask switchiamolo pure alla BSC così vi faccio anche un esempio pratico tac vedete qua in alto abbiamo la capacità complessiva disponibile sui vari protocolli sia in BNB che in USDC ok si se andiamo su Polygon ci sarà in Matic e così via il suo Ethereum era in Ether eccetera eccetera qui andiamo a scegliere mi si è inchiodato aspettate che refrescio la pagina andiamo a scegliere il protocollo sul quale ci vogliamo coprire guardate qui ad esempio c'è Anchor più UST Depeg il Bundle Bundle vuol dire che mette insieme più tipologie di assicurazioni guardate supponiamo di voler scegliere Terra abbiamo Anchor quindi solo Smart Contract Vulnerability abbiamo l'altra è sold out quindi non me la fa più vedere però volendo c'è anche ritorniamo pure indietro volendo c'è anche il solo UST Depeg o magari non c'è più qua su vediamo forse non è su BSC mi ricordo eccolo qua si c'è UST Depeg non ho capito perché non me l'ha mostrata col filtro oppure abbiamo il Bundle Mirror più UST Depeg Anchor più UST Depeg Anchor più Mirror più UST Depeg chiaramente il premio cambia perché il solo UST Depeg ci costa lo 0,0057 al giorno qui possiamo vedete andare a simulare il costo annuo che è del 2% invece l'Anchor più Mirror più UST Depeg ci costa il 6.2 l'Anchor più UST Depeg lo andiamo a recuperare dove è finito qua ci costa il 4.2 vedete c'è un mercato che dipende poi da varie cose da domande offerta e sicurezza percepita rischio percepito un'altra cosa intelligente di Insurace rispetto a Nexus Mutual è che su Nexus Mutual io le ho provate e le ho usate entrambe fortunatamente non ho mai dovuto fare un claim ma le ho usate entrambe su Nexus Mutual è necessario andare devo tornare sulla mainnet di Ethereum è necessario andare ad acquistare se si vuole acquistare più coperture andarle ad acquistare una alla volta e ti costa veramente un rene e mezzo in gas è una cosa folle perché devo acquistarne una acquistare l'altra acquistare l'altra ancora e così via su Insurace invece torniamo al nostro Insurace e andiamo su Polygon così cambiamo ancora chain giusto per vedere che cosa abbiamo di bello sull'altra chain ma i protocolli bene o male sono sempre gli stessi ve l'ho detto poi mi si bugga devo raffresciare vabbè e in sostanza quello che posso fare qua è andarne a selezionare più di una supponiamo di voler acquistare una copertura su Solana su Port Finance e Radium insieme vedete le metto tutte e due nel carrello tac vado a vedere quanto mi voglio coprire facciamola in USDC che è più facile 10.000 e 10.000 pure su Radium tac per quanto tempo per 30 giorni e anche qua per 30 giorni qui mi dice quanto pago vedete 61 dollari quando si comprano le coperture per più prodotti insieme di solito si paga un pelino meno che a comprarle separate quindi verificate sempre in particolare se sono piattaforme simili ovvero se sono tutte piattaforme di lending tutti DEX tutte sulla stessa chain perché c'è un discorso di punteggio di rischio che ci viene attribuito quindi questo è un po' tutto quello che c'è da sapere perché il resto è esattamente identico per fare il claim vedete devo andare sotto claims oppure o meglio quando io vado su active covers qua in fondo posso c'è lì l'icconcina che ho scritto claim dove posso andare appunto a fare a iniziare un'operazione di claim e il funzionamento è esattamente lo stesso lato underwriting insurance è più interessante perché guardate allora questo è su su polygon quindi abbiamo la possibilità di mettere a rendita stable e matic stesso eth eccetera l'unica cosa è che devo sapere che cosa sto andando a coprire ovvero se io seleziono dai dov'è che me lo diceva secondo me in questo caso vado a coprire un po' tutto vado a coprire un po' tutto vediamo i dettagli perché su su nexus vado a scegliere il pool sul quale vado a coprire in questo caso secondo me no secondo me no no sì perché si costruiscono i capitali i pool di capitali poi vedete il payout prima viene preso al 20% dai premi se invece non bastano i premi viene preso anche dal pool di capitale quindi no come non detto se io vado a dare liquidità e succede un incidente che va a danneggiare la piattaforma per più del 20% del premium pool dell'intera piattaforma però non è una cosa limitata allo specifico protocollo allora viene utilizzato il capital pool ok quindi attenzione perché il tuo capitale è a rischio tu stai facendo da assicuratore sappilo i ritorni sono allettanti vengono pagati in insur e però chiaramente ci si espone a un rischio tra l'altro se si dà liquidità e poi la si vuole sbloccare c'è un periodo di unstake di 15 giorni se non ricordo male ma è scritto anche questo qua lock up period of 15 days esattamente 15 giorni è configurabile ma adesso mi pare che sia 15 giorni se noi cambiamo chain vediamo ad esempio su bsc cambiano anche le ricompense su bsc abbiamo bnb al 22 eth al 10 e le altre a questo livello su ethereum mi pareva ci fosse il massimo proprio per eth intorno al 20 se non ricordo male eccolo 20% su eth che non è male 30% su sdt e così via ma ricordate che il vostro capitale è a rischio andiamo a vedere avalanche infine switchiamo allora beh niente male neanche qua ok il funzionamento è questo underwriting e copertura andiamo avanti poi con unslashed che non ha niente di particolare se non vabbè è sempre su ethereum mainnet purtroppo è esattamente simile a insurace come funzionamento abbiamo la possibilità di scegliere la copertura ci sono le umbrella quindi anchor più peg ad esempio ti fa vedere il premio e così via soltanto ripeto su ethereum quindi purtroppo c'è questo limite per dare il capitale ecco vedete che è interessante qua il fatto che c'è questo bucket che è un pool complessivo dove si può andare a dare capitale aspettate che vi faccio anche vedere aspettate ma connesso il wallet vediamo supply capital ok sotto forma di eth e poi il prelievo deve aspettare 48 ore una volta che lo vado a iniziare e mi diversifica tra i vari pool quindi in realtà è molto simile a insurace no e viene diversificato in questa maniera qui mi fa vedere che cosa sto facendo view details in particolare io sto coprendo slashing e downtime ah ecco giusto a slashed dimenticavo di dire una cosa copre anche dal rischio di slashing nello staking per alcuni protocolli da lì il nome tra l'altro quindi molto bene mi sto andando sto andando a dare capitale ai pool quindi sto andando a assumermi il rischio di 4% questo 3,1 il peg di UST o l'impus peg di USDT e così via no vedete che qua c'è tutto lo share di copertura che non fa assolutamente il 100% quindi mi chiedo che cosa caspita sta mancando due validatori è lo slashing 27 dap quindi 71% in dap secondo me all networks all types non capisco perché non fa 100% la somma di tutto ciò perché mi ricordavo che effettivamente forse perché non è ancora utilizzato del tutto non lo so però la distribuzione è in questo modo è in questo modo le dap i validatori e nove exchange che saranno i DEX che qua ci sono vediamo uniswap v2 v3 secondo me è sballato questo share percentuale cioè c'è qualche errore di di calcolo forse è da moltiplicare per 10 41 più 30 70 circa no farebbe già 100 non lo so devo approfondire questa cosa però questo è il funzionamento in sostanza io sto andando a dare capitale diversificato su questi rischi ok e per il resto è identico il claim eccetera funziona nello stesso modo su Ethereum come piattaforma poi andiamo a vedere quest'altra soluzione che si chiama Armor molto interessante perché innanzitutto perché non l'ho nemmeno aperta Armor punto fee eccola Armor è un broker costruito sopra a Nexus Mutual quindi non ha i limiti di Nexus Mutual del KYC ha il limite ancora purtroppo dell'essere su Ethereum e ha delle particolarità la prima è lo Smart Cover System che in sostanza ti fa la scansione del tuo wallet e va a vedere che posizioni hai aperte e ti propone già le coperture altrimenti le puoi aggiungere manualmente tra i vari protocolli supportati ad esempio Yearn All Volts supponiamo un ETH voglio questa copertura io glielo vado a dire e lui me la propone con un costo annuo del 3,90% se voglio se sono soddisfatto delle coperture che ho scelto vado su Coverdoll scelgo la durata e vedete che qua sotto mi propone un ammontare giusto così per strapparvi un sorriso vi faccio vedere quello che è il costo di gas guardate abbiamo ma non è basso pensavo peggio 55 dollari di gas però non è l'unica transazione da fare questa è la prima però pensavo molto peggio pensavo 10 volte tanto essere sincero perché Nexus Mutual costa molto 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 di più comunque questo è il funzionamento poi abbiamo un APY pagato in Armor per il Liquidity Mining in sostanza ok questo è tutto non è tutto in realtà è tutto per lo Smart Cover System quindi per come si va ad acquistare una copertura diretta altrimenti è possibile cioè una volta che ho la copertura poi è sotto forma di NFT la cosa carina è questa quindi si crea un mercato secondario dove la posso andare a vendere e vedete che io posso andare ad acquistare gli AR NFT vedete copertura tokenizzata per uso personale o per metterla in staking posso scegliere il protocollo la durata la montare eccetera 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 vedete che c'è una differenza rispetto all'AR Core rispetto agli NFT guardate come funziona in sostanza l'AR Core Smart Cover è quella che abbiamo vista e in sostanza è una copertura che acquisto direttamente su Nexus Mutual mentre l'AR NFT è una copertura direttamente venduta da utente a utente quindi a un mercato secondario esattamente come vi dicevo viene vrappato il tutto dentro a un NFT e poi questo NFT può essere venduto questo NFT di fatto offre la copertura che vende esattamente come se fosse la R Core quindi la Smart Cover però per avere la copertura l'NFT va messo in staking quindi questo è il mercato secondario e inoltre lo staking offre una ricompensa appunto di staking esattamente come come uno staking normale a chi lo fa quindi venendo alla pratica qui vedete posso andare ad acquistare direttamente la RNFT quindi io scelgo la piattaforma scelgo la durata scelgo il massimale ottengo una quotazione eccola qua vedete mi costerebbe 0, quello che è faccio buy now il costo di gas qui è più alto perché c'è dentro anche un disco esatto 450 dollari di gas fee proprio per un discorso di NFT e poi la ottengo una volta che la ottengo la posso mettere in staking vedete tac e l'unstake poi richiede 7 giorni e quindi questo è il funzionamento se io la metto in staking non c'è la copertura in realtà quindi il la RNFT in staking ok non mi copre non mi copre ma viene dato al protocollo stesso quindi in realtà non sono coperto se io compro una copertura e la metto in staking non sono coperto quindi ho sbagliato prima ho detto il contrario ma in realtà se mi voglio coprire non devo metterlo in staking o mi tengo l'NFT o quindi lo lo svrappo e ottengo lo smart cover normale oppure se lo metto in staking ottengo l'APY dello staking ma non sono coperto per quel periodo lì quindi non so a cosa possa servire esattamente ARNXM Volt qui è per andare a dare NXM che è il token di Nexus Mutual e wrapparlo in qualche modo e convertirlo poi in ARNXM che posso dare anche in liquidità per fare da underwriter in sostanza e questo è l'APY come vedete qui poi abbiamo la distribuzione della liquidità tra i vari protocolli è un casino folle effettivamente me ne rendo conto ma da da utilizzatore finale smart cover acquisto la polizza cioè scusate non si dice polizza la cover e basta e poi eventualmente faccio il claim da qui proof of loss vedete qui ci sono gli ultimi hack posso andarlo a scegliere e poi mi viene detto come come muovermi per ottenere il rimborso ultima cosa ultimissima risk arbor quello algoritmico allora ve l'ho già spiegato e non c'è molto altro da dire perché la sua implementazione più classica è Ozone Ozone in sostanza funziona così eccolo ovvero adesso è saturo utilizzato al 100% quindi il pool è stato svuotato totalmente ma io mi posso andare a proteggere da un tot di AUST che sono quelli che possiedo io ho messo il UST in earn su anchor ottengo gli AUST mi vado a proteggere tac pago uno specifico premio e acquisto la protezione poi vedete default ratio se un AUST va sotto al valore di un UST io ho diritto al pagamento in particolare vengo pagato in questo modo ogni AUST mi viene pagato 1,14 UST quindi devo dimostrare chiaramente di avere gli AUST quindi devo linkarlo al wallet terra attenzione il wallet terra dove ci sono i miei AUST e poi vado a fare il mio claim è molto semplice perché non c'è tutto il procedimento di votazione eccetera ma il claim è algoritmico puramente algoritmico esiste anche un risk harbor classico tra virgolette ovvero vedete adesso non ci sono sono tutti chiusi i pool però ad esempio protezione di meme con cusdt ok protezione dal depeg di meme poi alchemix più depeg AUST con sottostante le stablecoin di curve ok quindi ci sono tutta una serie di pool che si può creare chiunque li può creare in teoria perché io credo che posso anche andare a fare appunto l'underwriter ma se entro in un pool secondo me questi pool sono già chiusi quindi non posso neanche no qui si può solo prelevare no si può fare d'underwriter solo nel periodo in cui i pool sono aperti al momento è molto complicata come interfaccia perché poi per fare d'underwriter serve questa coin che è quella che viene rimborsata in caso di danno quindi se proteggo AUST chiaramente il sottostante non può essere AUST ma in questo caso è il token di Yearn del 3 pool di curve giusto per complicarci la vita questo è il premio il premio che viene applicato e basta ancor più UST de PEG 1% mi sembra veramente poco tra l'altro insomma ci deve essere qualcosa di strano qui ci sono le condizioni di default 1% di premio pazzesco ci credo che è andato via fulminato perché l'1% di premio o una cosa del genere è veramente conveniente però il pool sia più è durato poco e credo che fosse anche piccolo da quant'era il pool dov'è questo qua era da un milione di dollari di pool di LP token mess in staking su Yearn che è quello che verrebbe pagato all'eventuale danneggiato da Anchor e il funzionamento qui è questo vedete nel caso di incidente ci sarebbe stato il pagamento in questo rapporto cioè una UST 1.0392 YV curve 3 pool che è il token che viene messo in underwriting scadenza e tutto quanto questi sono i parametri in caso di claim è semplice perché io vado a esercitare il claim e mi viene subito detto se ne ho diritto o no se volete smanettarci un po' guardate carino c'è questo simulatore se cliccate demo che vi fa innanzitutto creare un pool sulla testnet di Polygon Mumbai e poi vi fa fare tutti gli step vi consiglio di provarlo è carino vi fa capire bene come funziona e poi è su testnet e su Polygon quindi è a costo zero amici basta questo è quanto credo di avervi fatto capire più o meno a grandi linee come e spero anche nel dettaglio perché abbiamo visto proprio tutto come funziona un protocollo di insurance non ne avevamo mai parlato non so se qualcun altro ne ha mai parlato spero che vi possa servire a capire se questi protocolli fanno per voi se sono troppo complicati e preferite aspettare una maggiore maturità del settore che è del tutto comprensibile oppure se magari vi è venuta voglia di fare gli underwriter e di prendervi un po' di rischio in cambio di APY che è una cosa che a noi piace sempre tanto detto questo io vi faccio un carissimo saluto e ci vediamo alla prossima dove iniziamo a parlare di strategie buona serata e ci vediamo la prossima